Dottoressa Corti, questo è solo un inizio. Signor Lamanna, questo è solo un inizio. Quanto è vero Dio sacrificerò la mia vita per togliermi da quelle sedie. Sacrificherò la mia vita per togliermi da quelle sedie. La mia vita sacrificherò per togliermi da quelle sedie. Vergogna. Chiedo, chiedo, se no veramente mi taglio la vita. Che venga il Presidente del Tribunale di Sorveglianza. Che guardi gli atti il Presidente del Tribunale di Sorveglianza. Che guardi gli atti. Sì, sì. Ma glielo dica raccorti! Glielo dica raccorti! ...mane peccato il mostro. Ora sono i cazzi vostri. E questo è solo un inizio. Allora, potete cantare, potete cantare, potete cantare, potete cantare, potete cantare. Dove ti importa? Vai, non te la peccate. Va, va, non farò piangere. Va, 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 basta, dai. Dai, mamma, vediamo andare. Questi genti si putta molto per bene. Dai, ma facciamo questa scenata. Abbiamo una di un'altra, dai. Non c'è l'altra, dai. Si, dice, dai. Dai, su. Mamma, per favore. Per favore. Perché non ci credo. Per favore. Perché non ci credo. C'era il campo, se mi sono restato. Sanziamoci, grazie. Vuoi un po' di docce? No, no, no. Non importa, no. Vado, me le faccio togliere, me le faccio sistemare in un ospedale. Il mio telefono, chi ce l'ha? Ce l'ha lei? L'ho dato lei? Oh! 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 Oh, finire, ma. Oh, ce l'ha lui, oh! Oh! Non è lei, non è lei, non è lei. Non è lei, non è lei. No, no, no.